ciao ragazzi bentornati dal vostro termen oggi riportiamo holly holly world e ho portato un episodio qualche giorno fa un po di giorni fa niente avevo voglia oggi di fare una partita quindi ho detto lo riportiamo insomma come vi ho detto anche nell'episodio precedente fatemi sapere che cosa ne pensate sempre attraverso un commento un like e quant'altro mi raccomando iscrivetevi sempre per supportarmi bene andiamo a stiamo ancora facendo i tutorial oltretutto perché questi quali sono tutti di tutorial quindi continueremo a fare tutorial vediamo come va avanti e come si sviluppa il gioco potrebbe essere utile fatti per fare pratica una spinta potente qui al raccordo con muso come faccio per la spinta potente tiene premuto e poi lascia andare x ok perfetto adesso poi cercheremo di andare velocemente così almeno da arrivare un po ai quadri extra tutorial ma dovremmo essere spero al termine perché abbiamo già visto praticamente tutti i comandi più o meno ora non me ne ricordo mezzo però ok per quanti modi apposta no ma il fattore iniziale a capo perché sta cosa perché sta cosa dai su ok che è un ottimo di ricordarci i tasti ok con questo si fare il flip questo il kick flip holly ok no compli e siamo arrivati perfetto andiamo avanti ed ed che mi dici di andare al negozio salti come prossima mappa beh dovrò riprogrammare gps e confrontare le coordinate con la mia mappa dad è proprio lì lo vedo tipo 10 passi da noi ok se possa con impegnare agenda direi che è fattibile al negozio salti andiamo ok continuiamo abbiamo sbloccato pure un oggetto cosa figa del suo gioco come dicevo nell'episodio precedente alla customizzazione che abbiamo dello skateboard e quant'altro ti do il benvenuto al negozio salti piacere di conoscerti ti devi essere sicuramente l'aspirante mago dello skate non sono una sensitiva swift mi ha chiamata per dirmi che avresti fatto skate qui ma magari sono davvero una sensitiva riesco a scoprire tutte le ultime tendenze di moda prima di chiunque altro cos'è quell'affare che hai in testa non chiamarlo così questo affare il mio nuovissimo hydro helmet grazie a cruise presto sarà approvato da technicolas se lo vuoi anche tu posso darti uno dei miei prototipi ho già un piacerebbe no tu michael ho detto alla nuova promessa ora mi servirebbe proprio un cappello con le cannucce di technicolas per vedere il mio gelato si è sciolto te l'avevo detto di metterlo in tasca non era una buona idea ok allora colpisce quattro gabbiani fai una spinta potente per le riscese due volte non fa scoppiare alcun gonfiabile ok come vi dicevo e come probabilmente vi ecco col triangolo si riparte scusate mi devo un attimo ricordare i tasti perché come vi dicevo l'altra volta io non mi ricordo come si fa il flip però a col forse col con la livetta su come vi dicevo l'altra volta il giochino è un po arcade però ok però è molto interessante aia si ho capito ragazzi allora facciamoci questo poi questo poi questo poi questo cioè di bestemmie se ne tirano parecchie ragazzi di bestemmie se ne possono tirare parecchie quindi non vi state a fare cose però è comunque divertente se avete voglia di giocare divertirvi eppure un po bestemmiare questo è sicuramente il gioco che fa per voi ammazzato un gabbiano un altro gabbiano vai vai backside eccoci qui sto cagando sotto che se sbaglio smadosco perché tocca ripartita a capo buono l'abbiamo fatto ragazzi 27.416 punti abbiamo fatto pure una cosa abbastanza buona buone belle guance sono davvero senza parole sarebbe un onore vederti indossare la mia nuova creazione presto sarà sold out in tutta redlandia grazie per l'aiuto ho riempito il furgone con tutte le ultime novità della salty potrei mettermi anch'io una di quelle t-shirt moderne lascia perdere dead ok praticamente non ho fatto niente di sfida di mike ma l'ho fatta spinta potente vabbè e continua andiamo avanti non ho fatto neanche una sfida anche se secondo me vabbè allora andiamo avanti vai a dei ghiaccioli vai a dei ghiaccioli è un parco naturale davvero fantastico da esplorare dammi dimmi sai già come cambiare corsia puoi cambiare ah ok puoi prendere guardato per cambiare corsia esplorare percorsi diversi ti consentirà di scoprire molti segreti di radlandia mi spiace chiamare il percorso impeditivo il percorso tosto già spesso è così ma qui ci stiamo solo esercitando tutti i percorsi tosti sono percorsi alternativi ma non tutti i percorsi alternativi sono tosti è chiaro proprio così chiffon divertiti a scoprire ogni possibile percorso nascosto va bene questa era un'altra cosa che ci dovevamo scoprire avete il percorso alternativo era quello di là ok 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 tanto questo è quello che ci tocca fare è che cazzo ok vai 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 ok abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare abbiamo fatto anche percorsi alternativi a delle ottime capacità esplorative seguiamo la cosa fino ai viari dell'aragosta si è il posto del dove alle melta spiace allenarsi un sacco di crostacee e molluschi da annientare grindiamoli alla grande immagino sia fattibile se non nulla se non hanno nulla in contrario ok va bene continuiamo sbloccato i pantaloni strappati avanziamo per tutti i pistacchi ci si rivede vuoi sapere di più su questo posto dai nelle cose noi melta si becchiamo sempre qui per fare skate sono i locali solo i locali conosciamo questo posto cioè solo i locali conoscono questo posto non solo noi locali conosciamo questo posto in italiano un po particolare già tutti i turisti degli becchi tutti al waves già i turisti degli becchi tutti al webcom è il parco acquatico dove lavoro comunque io sono cruz forse non crederai ma cruz ha incontrato tec nicolas sono stato sarà stato paradisiaco vieni a trovarmi al san fan land e te ne parlerò allora completa livello completa senza usare il checkpoint colpisci gabbiani fai un grind per la folla di granchi alla cascata dai 5 a cruz e finisci senza schiantarti 5 a cruz bisogna capire come si fa dobbiamo fare un grind sui granchi e colpire i gabbiani vabbè ci proviamo vediamo che succede vediamo che va a fan cuffia questo triangolo non lo devo prendere mai perché il triangolo ci fa sempre l'inizia eccoci devo prendere la pista alternativa e non l'ho presa e vai due gabbiani abbiamo presi ciao ho detto ragazzi questo è un gioco poi non vi faccio non vi salto i tentativi perché sostanzialmente il gioco è questo quindi è inutile che vi taglio i tentativi portandovi direttamente alla fine del gioco perché tanto ecco appunto perché tanto il gioco è questo qua sostanzialmente ve l'ho detto un gioco molto arcade divertente alla fine secondo me si bello andare avanti ma lo scopo comunque il divertimento è riuscire a fare i quadri senza bestemmiare cosa in qui noi non facciamo con tanto con tanta semplicità ok vai prendi velocità vai bravo abbiamo cambiato percorso non so quanto sia andato meglio buono ragazzi non è semplice ok ok e siamo arrivati credo che abbiamo fatto il grind sui crostacei quindi dovremmo aver fatto almeno quella missione mi sono divertito parecchio raccogliere fossili sulla spiaggia però mi sono perso il tuo giro spero tu non abbia fatto del male ad alcuna creatura sono tutte a posto nessun animale è stato maltrattato in questo livello qualcuno ha visto le meltas ho sentito dire che fanno skate da queste parti o beh proviamo a darsene dalle alghe forse si allenano lì vedi il grind l'ho fatto non ho colpito i gabbiani e non ho preso la stella marina dai 5 a cruz va bene continuiamo avanziamo ragazzi sembra un gioco molto semplice in realtà lo è anche però è molto molto figo io non so come dirvelo ma il gioco è veramente veramente figo vedete il tutorial adesso è finito perché qua c'è lo tutorial e qua non lo è più quindi queste sono tutte missioni che noi andremo a fare in realtà vorrei provare anche gli altri quadri non riusciremo sicuramente a farli oggi perché sono più mondi ovviamente le divinità dello skate comunicano con noi tramite l'energia che creiamo usando lo skate che vuol dire mentre cavalti la tavola la tavola concettati sulle sensazioni più che sulla tecnica solo raggiungendo il giusto stato metale otterrai la vera maestria non pensare troppo stare sulla buona strada per nevara mi sembra un po troppo filosofico senza solo a mostrarvi i trick migliori voglio riprendermi con la mia cammi ok per livello ok fai una combo per 11 bene capirai facile facile proprio colpisci tutti e 9 gabbiani portatemi a livello con esattamente due grind ok allora ci lasciamo intanto il primo poi ci lasciamo il secondo dai arcadro ammocato in acqua se riparte da cavo aspettate però è no fa dove saltare più veloce o buono andiamo sopra la mia strada almeno vai mi ero dimenticato pure che si potesse cambiare mossa mentre si grindava vai vai mazza oh vai ma bestemmia dietro l'angolo preso nooo ve l'avevo detto ragazzi a bestemmia dietro l'angolo qua c'è un checkpoint penso sì era un checkpoint niente il checkpoint abbiamo ormai non usarlo due volte noi l'abbiamo usato due volte eh ma è tosto questo pezzo qua perchè ok no cazzo alla fine oh alla fine era l'ultimo pezzo ho appena fatto delle fantastiche riprese mentre fai skate sotto il sole sei davvero in gamba ti metterò sulla copertina della mia rivista il sole splende forte sulle soddiente skater di radlandia grandi aspettativi per la nuova promessa dello skate di radlandia e abbiamo capito quattro amici hanno incontrato sul buono la nuova promessa dello skate l'hanno convinta a girare tutta l'atlandia per mostrare delle proprie abilità incontrata con immaginarie divinità dello skate ed entrare nell'olimpo dei maghi dello skate e si noi dobbiamo diventare il re dello skate suzi può perché suona tutto così incredibile quando lo dici tu che posso dire ci so faremo le parole bene non abbiamo fatto una beata minchia non dobbiamo fare manco il checkpoint in realtà adesso noi ci facciamo questa cosa personalizzazione abbiamo da personalizzare i vestiti visto che ci abbiamo abbiamo sbloccato roba nuova io andrei a prendere se li trovo i jeans quelli con gli strappi aspettate se li trovo li vedo non li vedo eccoli qua perfetto calzini no scarpe no volevo personalizzare anche lo skate per quanto pure gli occhiali ah ok sono bloccati tutti bloccati questi ok tatuaggino la maglietta sempre questa ok scusami eh ok avanti avanti eccole qua le rotelle quelle abbiamo sbloccato queste ora noi abbiamo queste vai cambiamo mettiamo queste qua così cambiamo anche questo e non mi pare abbiamo sbloccato nuovi ah si eccoli qua no meglio fucsia e non mi sembra perfetto mettiamo questo no questo è bloccato e anche questo vai questo abbiamo sbloccato e questo mettiamo oh ho detto questo abbiamo sbloccato e questo mettiamo ok possiamo tornare al nostro viaggio e andiamo a continuare la nostra avventura punta brezza vai vai sei già come fare i trick avanzati no spiegacelo mi piace mi piace chiamare i trick avanzati ruota con il il pollice L con il pollice di un ninja mettici la tutta su questo percorso ah tieni premuto ah ok quindi facendo delle mosse con L ok 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 vabbè se andiamo eh sì ma non avevamo fatto i 5 guardate il trick sì eh ho capito ah ok così 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 ok ok intanto facciamo questi perfetto eh ok a seconda ok ok ho capito un po' un casino ma si può riuscire è stato pazzesco già davvero notevole ma ancora non mi basta ok abbiamo sbloccato il cappellino ma tanto noi non ce l'abbiamo andiamo a livello successivo vai benvenuti al tavolo di coralli la perla di wavecube io sono Cruz posso essere d'aiuto? mmm sì vai eh tavolo di coralli è il barco acquatico più acquatico di tutta Redlandia qui potete annegare anacquare e affogare ogni problema tu sei Cruz? Cruz delle mitiche meltas? scusate non fate a casa quello che ho detto ce lo fanno dire a tutti gli sedatori noi due ci siamo già incontrati ma tu chi sei? vi siete già incontrati che figo eh perché non me l'hai detto? non dovresti tenere nascoste certe cose? possiamo fare gli skate qui? certo le vasche speciali e le piscinette sono ancora aperte ma le altre piscine sono state svuotate appositivamente per gli skater mitico vamos allora fai i trick avanzati per entrambe le folle degli scivoli d'acqua non fare trick base nella piscina colpisci tutti i gabbiani vabbè proviamo un attimo cerchiamo di capire perché ok dai datti una spinta mannaggia porca merda a sto triangolo me devo dimenticare dell'esistenza ok dai che stiamo andando particolarmente vediamo bene nooo porca zuzza ladra aia vabbè qua non non ce la non ce la facciamo troppo ok mia che cazzo andiamo dritti che cambiamo strada proviamo a vedere se di qua è più semplice vai mamma come viaggia viaggia buono 26.676 punti ho fatto pure il percorso tosto è stato davvero rinfrescante puoi ripetere scusami non ci sento bene hanno individuato cruz delle meltas e ora stanno cercando tecnicolas suzi ha detto di incontrarci alle sale giochi davvero ho sentito tutto questo l'udito dei magrito lo schietta deve essere straordinario non l'ho sentito l'ho percepito va bene non ho fatto nessuna missione particolare vabbè tanto andiamo avanti procediamo procediamo ci facciamo un altro paio di quadri ragazzi vuoi sapere un segreto vai dimmelo su questo percorso una volta ho beccato uno strano cartomante meccanico e ha detto che il mio destino era incontrare tecnicolas proprio qui ecco perché ho accettato il posto al wave cove anche se non so nuotare se credi che queste cose potresti beccarlo da qualche parte a sunshine valley se credi in queste cose vediamo se lo beccamo inizia con un trick avanzato e finisci con un grind sulla folla fatti predire il futuro eh si vabbè ma come fai non lo so vabbè vediamo fatti predire il futuro io sono curioso dei vede come faccio a beccarlo vabbè comunque è spettacolare questo gioco è qualcosa di veramente figo vai 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 salta eccolo bella chi dorme non pia pesci il futuro è scritto nelle scintille delle tue grippate ho aggiunto un nuovo luogo alla tua mappa lì ti dirò di più perfetto cioè ve l'ho detto ragazzo il gioco è veramente veramente figo gioco semplice ma divertentissimo sto frullando come un drago vai 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 buono grande sgommata 11.561 punti cavolo ho perso la mia paghetta nel cabinato di holly holly chi ti ha dato la paghetta eh dad un adulto ha dato a te un altro adulto la paghetta ah non essere gelosa mike si merita qualche piccolo qualche spicciolo in più di tanto in tanto ecco un po' di monetine anche per te ma non spendere tutte subito grazie bene almeno abbiamo fatto una missione secondaria allora ragazzi direi di fare l'ultimo livello e poi ci salutiamo diciamo che poi siamo quasi arrivati al mondo successivo facciamo solo questo vai ti è piaciuta sunshine valley si ma ho incontrato tec nicolas ma non ho incontrato che peccato forse non è davvero eh se mi togli la musica forse non è davvero la stoffa per entrare nell'olimpo dei maghi dello skate no sovrata oh no pensi che dovremmo fare altri provini per incontrare le unità devi smettere di cercarle cerca solo di divertirti io credo in te ok fai un trick dal valore 300 punti ottieni 4.000 punti una singola combo non fare scoppiare alcuna balena confiabile si ma te pare facile non è facile non riesco a capire come fanno come fai a fare le combo sinceramente devo un attimo un po' esercitare su sta cosa eh vai i quadri diventano più interessanti ovviamente eh si tanto ho già scoppiato il 200 di balene ma a noi non ci frega niente noi facciamo tutto quello che non è una missione secondaria praticamente vai buono ok anche questo l'abbiamo fatto 13.477 punti ehi grandi notizie crew crew ci ha dato un buono per un soggetto gratuito al Don Quai Hotei wow le meta sono davvero forti abbiamo scroccato roba in tutta la Sasha in Valley ok ragazzi abbiamo fatto anche questo abbiamo sbloccato pure un tatuaggio e missione dai facciamoci pure questa su al volo fatto che abbiamo messo poco facciamo anche questa così completiamo il mondo non è niente male già gran bel posto non sono mai stato in un albergo prima d'ora io sono già stata qui molte lune fa davvero eh si questo albergo è stato costruito su una delle antiche linee telluriche che connettono gli skater con le divinità e ho anche una colazione al buffet davvero conveniente raggiungilo con lo skate vai andiamo incontrare auror fai un trick avanzato fai 10 trick flip diversi in un solo giro ok vai sali bravissimi abbiamo fatto una grande mossa grandi punti vai buono ok cerchiamo di non sbagliare buono buono non abbiamo sicuramente fatto missioni secondarie ma technicolas che le alghe siano con te l'abbiamo beccato wow ehi ehi sono proprio io technicolas un'autentica debita dello skate esistiamo davvero che pensavate ti ho tenuto d'occhio e ti ho e hai mostrato delle posse davvero radiose come ricompensa speciale si bloccherò il primo set di maestrie dovresti venire con me anche nel zumbana è il mio piccolo gnarvana personale dove posso scatenarmi con lo skate possiamo diventare uno un tutt'uno col mare nella sua forma più pura ammazza ok aspetta un attimo mi è appena tornata in mente una cosa se vuoi accedere all'olimpo dei maghi dello skate devi assolutamente contare le frolla la dignità dello skate di cloverbrook flora ti aiuterà a migliorare il tuo stile facendo sbocciare le due abilità continua ad andare alla grande non farti insabbiare perfetto ragazzi abbiamo fatto anche questa cambiamo mondo come vedete abbiamo completato il primo mondo si va a gnarvandia che è appunto il secondo no scusate a cloverbrook andiamo che è il secondo mondo ma ma lo riprenderemo in un prossimo episodio per il momento ci fermiamo qui lasciatemi un commento fatemi sapere che cosa ne pensate iscrivetevi al canale per supportarmi e come sempre lasciate un bel like vi do appuntamento al prossimo episodio un saluto dal vostro Nerman ciao ciao